Silenzio! Allora, signor Stragapede, figlio del giudice Stragapede. Infatti sì, mio padre. Allora, mentre lei rumbava, ma non ha pensato a suo padre? Come non ho pensato a mio padre? Certo che ho pensato a mio padre. Mi creda, signor giudice, non ho trovato niente che potesse piacergli. Ma veramente è una cosa assurda quella casa, cioè pure è grande voglio dire. A mia madre ho trovato i frigorifichi, quella ci teneva, i frigorifichi che tenevano la signora. Ma vedi che forte quella, comunque hai sempre portato giù, questo probleminico.